Restano numeri record quelli delle terapie intensive abruzzesi, ancora in crescita, più due rispetto a ieri ed arrivati a quota 94 ricoverati. Un dato che la dice lunga sulla difficoltà che sta vivendo il sistema sanitario regionale e sulla pericolosità del virus, soprattutto con la circolazione delle varianti. Il dato delle rianimazioni si inserisce in un contesto in cui i ricoveri in area medica scendono solo lievemente, meno tre, attestandosi a 649. I nuovi positivi sono 320 di età compresa tra gli 1 e i 94 anni, la maggior parte dei quali nella provincia di Chieti e nella provincia di Pescara. I nuovi pazienti covid-19 sono emersi dall'analisi di 5.114 tamponi molecolari e 1.865 test antigenici per un tasso di positività complessivo del 4,58 per cento, ma se si considerano solo i tamponi molecolari il tasso di positività sale al 6,25 per cento. Sempre in doppia cifra i decessi, nelle ultime ore sono 11 quelli comunicati dalle quattro asle regionali. Buone notizie invece per quanto riguarda gli attualmente positivi che scendono a quota 11.916, meno 994 e per le guarigioni in deciso aumento più 1.212. Le persone in isolamento domiciliare infine sono 11.893 e scendono di 273 unità.